22 dicembre 1989. Muore a Parigi lo scrittore, drammaturgo e regista irlandese Samuel Barclay Beckett. Nato da una famiglia borghese, studia lingue e letterature e romanze. Trasferitosi a Parigi, diventa segretario di James Joyce. La sua fama universale si consolida con i lavori teatrali, aspettando Godot e finale di partita. Nel 1969 gli viene assegnato il premio Nobel per la letteratura.